Prego, Massimo. Dai comincio, ciao Sinisa, ciao Nicola. Buongiorno. Scusa, la domanda è inevitabile sulla vicenda legata allo sfogo social di tua figlia Vittoria, rispetto a quello che è successo. E volevo sapere la posizione. Sfogo che quando uno... Lei ha risposto perché c'erano insulti che non c'entravano nulla con calcio. Perciò, vabbè, queste sono solite merdi che si nascondono dietro, poi magari davanti ti vedono e ti fanno complimenti. Però, come io non ce lo so, ce li tutto. Mi hanno detto ieri, mi ha chiamato mia figlia perché mi ha fatto vedere quello che hanno scritto e tutto. Io, per fortuna, sono abituato. I miei figli un po' di meno, specialmente magari quello più piccolo, che magari può leggerlo e sentirsi preoccupato. Mi dispiace, come naturalmente potrebbe dispiacere a ogni figlio quando ci scrivono certe cose sul padre, sulla presunta malattia, su tutto quello che c'è. Sono cose troppo personali e sicuramente quando oltrepassano limite, poi dopo bisogna anche rispondere in una certa maniera. però, come ho detto, questo è mondo di oggi, i social che si nascondono dietro la tastiera e insultano, non ci hanno le palle per dire questo in faccia o magari farselo vedere. però, io, come ho detto, sono abituato. Poi, ma anche li leggo perché non c'ho social, perciò è più per i miei figli, ecco. Però, si dovranno abituare anche loro, purtroppo, perché la vita è così. Una domanda scomoda, una reminitabile, cioè dopo questi risultati, ti senti un allenatore in discussione domani? Ma io, quello che dico, che per quello che succede io sono primo responsabile, ok? Perciò, preferisco che voi lasciate in pace i ragazzi, perché sono io primo responsabile, perché sono io quello che li alleno, sono io quello che li metto in campo. Perciò, io questi ragazzi voglio molto bene, perché abbiamo passato tante cose insieme, mi hanno aiutato, li ho aiutato io. Sono sempre stati prima vomini, poi calciatori. Sicuramente a tutti noi dispiace questa situazione, però altrettanto siamo convinti che usciremo da questa situazione. Non è prima volta che ci capita, che mi capita. Vedo la voglia dei ragazzi di vincere le partite e lo dimostrano tutte le volte che abbiamo giocato in queste quattro gare. Però loro non c'entrano niente. Se dovete criticare qualcuno o trovare un colpevole, sono io. Poi, sai, io alleno ormai da diversi anni, perciò non è la prima volta che mi devo mettere in discussione tutto, ma non è un problema. Come ho detto, sono abituato. Ce l'ho spalle larghe. Per tutto quello che ho passato nella mia vita, essere in discussione in una società per i risultati non ad altezza, non è che non dormo di notte. Anzi, cerco di dare sempre il massimo e cercare soluzione per uscire. Siamo usciti quasi sempre, usciremo anche questa volta qua. Perciò è importante mantenere equilibrio, non perdere fiducia e poi si sistema tutto. Sapete quello che ho detto anche, quale è la differenza tra pessimista e ottimista? Pessimista è quello che in ogni, come posso dire, in ogni occasione, ogni cosa positiva, vede qualche difficoltà. e cerca di uscire. Perciò dobbiamo essere tutti positivi. Io per primo e sono positivo, sono tranquillo, sereno, ma penso anche ai miei giocatori altrettanto. Sappiamo che dobbiamo migliorare certe cose, perché purtroppo nelle quattro partite, tre partite, siamo andati in vantaggio e tutte e tre partite, diciamo, siamo stati raggiunti una volta superati. Perciò dobbiamo, quello che ho detto anche dopo la partita, dobbiamo cercare di essere, non dico rabbiosi, anche più disperati. Più disperati nel difendere la porta, non subire golli e anche essere più cinici quando ci sono occasioni per buttarla dentro. E' quello che purtroppo non si può insegnare, ma bisogna tirar fuori da dentro. E tutti loro ce l'hanno dentro, bisogna solo tirarlo fuori e sono sicuro che domani faranno quello che dovranno fare. Devi prendere il microfono. di solito. Ma è normale, la voce massima. Perché non si sente bene. Sì, no, adesso non si. Ha qualcosa di particolare questa crisi, affrontare questa crisi, questa crisi, questo momento un po' delicato della stagione, te l'aspettavi così presto, quantomeno, è un po' troppo presto oppure no? E poi, riguardando le prime quattro partite, visto che si impara sempre, da quello che ci accade nella vita, avresti fatto qualcosa di diverso rispetto alle scelte che hai preso da Lazio-Bologna fino all'ultima partita o no? Cosa pensi di poter aggiustare rispetto a quello che hai messo in campo, diciamo in atto, insomma, in questi primi mesi di lavoro? Vabbè, per quanto riguarda le partite, prime tre partite siamo stati l'unica squadra che ha incontrata Big 6, ok? Sono Lazio, Lazio e chi era? Milan. Sì, Lazio e Milan. C'è un'unica e fuori casa. Perciò, diciamo, se possiamo essere reali, diciamo, partita con Verona era quella che dovevamo vincere e l'abbiamo provato e tutto poi è successo anche negli ultimi 20 minuti che giocavano in 10. Due squadre che, diciamo, ricordiamoci che Milan l'anno scorso è stata migliore difesa e Lazio insieme all'Inter è stato migliore attacco. Perciò era, tutti noi volevamo vincere ma obiettivamente parlando era difficile e questa partita con Salernitana dove abbiamo subito gol dove abbiamo subito gol in due minuti da fine. Siamo quarta partita, 10% della partita, mancano 90% della partita perciò c'è tutto il tempo per recuperare ma sappiamo che comunque dopo quattro giornate avere due punti tutto dobbiamo cambiare la marcia per cercare di vincere il prima possibile e di salire. Diciamo che per quello che mi riguarda noi in queste quattro partite abbiamo perso i punti ma non siamo stati sconfitti perché quando perdi i punti hai perso solo i punti quando sei sconfitto allora sei sconfitto in tutto nell'orgoglio nella fiducia nell'autostima non è stato così perché noi in tutte le partite siamo stati in partita in gara fino all'ultima perciò squadra è sempre risposto ha giocato creato purtroppo abbiamo fatto pochi gol e in qualche maniera riusciamo sempre a prenderlo però come ho detto squadra sta bene sono sicuro se continuano a giocare così migliorando queste cose qua che andiamo là dove dobbiamo stare dopo la partita magari siamo tutti bravi a parlare un allenatore cerca sempre di mettere in campo la 11 migliore quelli che si allenano meglio quelli che possono mettere più in difficoltà squadra avversaria poi magari non è così magari partita succedono altre cose e poi cerchi poi dopo di come è successo domenica che ho messo diciamo vignato per avere più tecnica più velocità rispetto di fisicità e non è andata bene ho cambiato subito nel secondo tempo mettendo più fisicità è andato meglio però un allenatore cerca sempre di fare bene per la squadra non pensa a chi far favore chi giocare ma cerca sempre di fare la squadra migliore che può mettere più in difficoltà la squadra avversaria poi tutti sbagliamo siamo tutti umani solo chi non lavora non sbaglia perciò buongiorno volevo chiederle se ha detto adesso che la squadra sta bene ma al terzo impegno una settimana se ci può essere domani spazio per qualche rotazione anche per la gestione delle energie sì sicuramente facciamo qualche cambio quello sì dove si può cambiare tutto lo cambieremo poi ci sono quelli che dovranno giocare tre partite una settimana e tutto però sicuramente qualche cambio faremo anche perché c'era poco tempo perché oggi due giorni la partita domani tre giorni della partita giochiamo alle 15 perciò in questi due giorni si lavora poco diciamo cerchiamo solo di rifrescarci tutto e cercare di arrivare alla partita più riposati possibile per poter fare la gara di grande intensità cercando sempre di portare a casa tre punti anche se non sarà facile perché loro comunque sono una squadra specialmente in casa che gioca bene hanno fisicità e sicuramente ci metteranno in difficoltà però diciamo sulla carta noi siamo più bravi e lo dobbiamo dimostrare una domanda per Sansone invece se proprio dal tuo punto di vista ci puoi raccontare due azioni della partita contro la Salernitana quel regalone di D.A. che non sei riuscito a sfruttare e il rigore che ti sei procurato con quell'attacco alla profondità se era una cosa che avevate studiato diciamo per la seconda assolutamente sì perché prima l'abbiamo studiato prima o così magari dovevamo studiarla così ero sorpreso diciamo sì ero rimasto un po' sorpreso cioè speravo che me la desse la palla però alla fine sono rimasto un po' sorpreso poi ho preso la decisione sbagliata di incrociare invece dovevo piazzarla sul primo palo però solo sbagliando si impara quindi la prossima volta lo farò meglio poi per la seconda cosa il mister sì mi diceva di attaccare spesso la profondità e penso che l'ho fatto li abbiamo messi in difficoltà e meno male ho preso il rigore lui giovedì è stato diciamo giocatore più generoso di tutti perché perché ha fatto molto lavoro per gli altri poi dopo magari quando serviva diciamo altri hanno fatto molto meno per lui però ha fatto quello che doveva fare comunque ha attaccato la profondità ha creato occasioni tutto a fine è uscito estremato però come detto è stato il giocatore più generoso quello che si meritava sicuramente è almeno un gol può approfondire questa cosa gli altri hanno fatto meno nel senso che lui apriva gli spazi tutto giocava prendeva i contrasti duelli andava 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 a fare quello che doveva essere fatto perciò se tutti avessero fatto quello perché ci sono alcuni che magari non hanno fatto una grande partita magari sarebbe anche diverso per questo dico lui ha aiutato ha cercato di fare assist tutto poi gli è capitati anche occasioni però purtroppo non è riuscito a fare gol per questo dico più generoso buongiorno è terminato il calcio mercato le chiedo un giudizio un commento su questi tre mesi di lavoro assieme a Giovanni Sartori ci vediamo tutti i giorni parliamo normale come con tutti i direttori sportivi ha notato qualcosa in particolare qualche modus operandi differente nel suo lavoro un quotidiano come vi siete rapportati no grazie le volevo chiedere come ha visto in questi pochi allenamenti Zirkzi e se è un giocatore che può già essere pronto e utile per dare una mano già domani l'ho visto abbastanza bene solo che ieri abbiamo fatto lamento oggi è due giorni dopo la partita perciò si fa poco per adesso ancora poco si riescono a vedere diciamo i nuovi arrivati perché non abbiamo fatto quasi niente come allenamenti e tutto però è un giocatore per quello che si riesce a vedere in queste poche volte è un giocatore che l'abbiamo preso a posto perché ha tutte le carte in regola ha fisicità ha velocità sa fare gol perciò è un giocatore giovane che può diventare un giocatore importante è disponibile perciò domani potrebbe anche giocare dall'inizio magari anche in gara in corso vediamo buongiorno a sinistra chiedo quanto manca per vedere il vero dominguez abbiamo visto un po' rallentato anche dopo l'infortunio l'anno scorso mentre per Nicola che stagione deve essere questa la tua e cosa ne pensi di Zirkze visto che il mister c'è già risposto e questi compagni di reparto dominguez sì diciamo dopo infortunio con la spalla non è più tornato quello di prima si allena bene è generoso cerca di fare quello che faceva prima che magari non gli riesce come prima però solo giocando non deve perdere fiducia cercando di dare sempre il massimo poi ritornerà anche in forma ritornerà anche dominguez anche se prima di infortunio con la spalla giocava davanti a difesa qua giocava interno perciò anche un ruolo che magari quando l'ho messo davanti a difesa non era il suo ruolo poi l'ho fatto benissimo poi adesso nel suo ruolo fa meno bene che davanti a difesa magari si è abituato a stare là dietro e magari attacca meno com'era la domanda che stagione dovrà essere per te e cosa tu dici di Zirkze ogni stagione cerco di migliorarmi chiaramente poi di Zirkze posso dire che è un ottimo giocatore poi come ha detto il mister bisogna vederlo ancora di più negli allenamenti e poi nella partita perché non abbiamo fatto tanti allenamenti insieme adesso Buongiorno mister le chiedo visto che ha incontrato Posh e per i nuovi allenamenti di ieri che cosa ne pensa e insomma se avete avuto modo di scambiare due chiacchiere e se ci può dire qualcosa di più sul giocatore ci ho parlato come parlo con tutti ma è ancora presto per per dare un giudizio tutto ci ho fatto un allenamento ci vuole un po' di tempo che fa le eventi che si abitui tutto ci sono pochi giocatori che riescono che riescono subito ad abituarsi al campionato italiano cioè Lukumi per lui ero sicuro che visto loro giocare e tutto che non avrebbe avuto problemi come non ha avuto problemi Ike come non ha avuto problemi tiate poi ci sono tanti altri che comunque ci vuole più tempo per abituarsi perché è molto tattico più intenso rispetto dei campionati da dove arrivano loro perché tutti loro che sono arrivati arrivano dai campionati che sono non i dieci non i undicesimi nel campionati europei nessuno di loro è arrivato diciamo da da campionati più forti di quello italiano perciò ci vuole anche per alcuni più tempo che che si adattano Massimo io prezzo sempre la tua forza e dire le cose che pensi ecco quindi probabilmente quella frase su Posh che per noi è divertente qua non è stata gradita ecco la ridiresti e era la verità probabilmente ecco tu non te l'aspettavi non lo conoscevi o no? non è che un allenatore deve conoscere tutti i giocatori al mondo perciò ho detto che non lo conosco perché perché non l'ho mai visto non mi hanno mai presentato i giocatori perciò io i giocatori che abbiamo preso quasi tutti quasi tutti ho dato il mio benestare alcuni alcuni sono stati presi con la società e tutto ciò non è un problema a Nicola invece chiedo questo tu quando sei arrivato qui a quel febbraio fine fine febbraio inizio gennaio inizio di sì dopo Frosinone diciamo ecco tu sei arrivato prima con certo hai vissuto situazioni peggiori di classifica di questo 14 punti dopo 21 partite voleva dire avere un piede in B quindi questa è all'acqua di rose però tu questa l'hai vissuta da dentro cioè vieni da questi anni hai vissuto questa situazione da dentro questa squadra ha solo una crisi di risultati o anche magari un po' una crisi di fiducia in quello che vorrebbe fare in campo e non riesce a fare beh penso che siamo arrivati insieme quindi l'abbiamo vissuta insieme questa cosa quindi ci teniamo entrambi molto al Bologna e cerchiamo di portarla fuori da questa situazione però la mia esperienza dice che siamo ancora all'inizio del campionato è vero che non abbiamo vinto però abbiamo cercato in tutti i modi di vincere in queste quattro partite e penso che arriverà la vittoria il più presto possibile non è una crisi questa qua soltanto manca la vittoria però io sono fiducioso che arriverà presto una domanda sempre per Nicola quest'estate sei stato vicino a lasciare il club oppure ti sei solo concentrato sul Bologna e su Frabeni con questa squadra io mi sono sempre concentrato sul mio lavoro per me non esiste altra cosa dare il massimo ogni giorno e migliorarsi giorno dopo giorno ho una curiosità tattica difficilmente le ho io tattiche Moro quando si è presentato ha detto che può giocare sia davanti alla difesa da play basso o da mezzata ecco tu in questi primi elementi e presto dove lo vedi perché da play in questo momento c'è un giocatore che non è al top ma è insostituibile come scout possono giocare anche due play non è vietato i due play non è vietato ciò possono giocare anche tutti e due insieme ciò ciò vediamo l'ho guardato prima l'ho visto anche ieri in Avento è molto simile a Brozovic nel senso che è uno che sa giocare uno che uno che si va sempre cercare la palla difficile che la perda è uno che gioca molto in verticale poi secondo me dovrebbe questo è normale come tanti giocatori che arrivano in Italia dovrebbero ingrossarsi un po' lui è un pochino magro e tutto nei contrasti e tutto magari non riesce non è tipo Koulibaly perciò deve migliorare questo ma questo ci vuole tempo però è un giocatore di talento uno che gioca in Nazionale Croata si sa che sa giocare poi mi sono anche informato perché lui da dove viene c'è un mio amico che alena Iocanovic che mi ha chiesto a favore di non prenderlo se posso ma purtroppo non si poteva fare perciò è un giocatore che può giocare mezzala può giocare mediano-basso può giocare in due può coprire diversi ruoli però come caratteristiche come movenze come tipo di gioco somiglio molto a Brozovic che non è male C'è il Presidente in questi giorni ogni volta quando devi fare domanda sembra che faccio la premessa devi fare una domanda faccio la premessa poi fai una domanda diciamo scontata sì no no normale poi me lo dite il Presidente è una settimana che è qua poi adesso è via in questi giorni però sarà anche a Spezia insomma il vostro rapporto com'è se vi siete parlati in questi giorni se vi siete parlati anche dopo la partita che è stata una partita un pochino sfortunata sabato cosa vi siete detti qual è il vostro percorso no insomma se c'è un po' così visto che insomma è importante il rapporto col Presidente e l'altra cosa è ha ragione Nicola che è mancata la lucidità o hai ragione tu che è mancata la rabbia ho detto freddezza scusa almeno a me è mancata la freddezza o la rabbia chi ha ragione ha ragione il giocatore o l'allenatore hanno tutti e due ragione ho detto un attimo fa che è stato il giocatore più generoso in campo perciò generoso significa che è uno e allora a quel punto quando gli capita occasione magari è meno lucido a rispetto di uno che è corso di meno poi dopo là penetra anche non dico rabbia disperazione per poter fare gol o poter difendere il risultato ma tutti e due abbiamo ragione con il Presidente non mi sono non mi sono parlato non mi sono sentito come sempre siamo qua poi non lo so vediamo se ci vediamo se ci parliamo è tutto cioè io sono a disposizione come sempre so per me è tutto come prima e le chiedo in solido cosa si aspetta domani dalla squadra perché in questi anni quando c'è stato i momenti un po' complessi anche per la per la panchina è sempre arrivata la grande prestazione del gruppo o anche la vittoria che serviva c'è un messaggio particolare che dà alla squadra il messaggio è quello là che voglio vedere una squadra disperata una squadra che va in campo cerca di giocare bene come abbiamo fatto quasi sempre cerca di vincere portare a casa il risultato a tutti i costi come ho detto i punti è arrivato un momento potremmo farlo anche prima ma è arrivato un momento di cercare di fare punti anche perché come ho detto siamo appena la quarta partita però in Italia funziona così cioè ci vuole un attimo per sai come si dice la vittoria ha tanti padri sconfitta solo uno non sei sorpreso non sei sorpreso di questo clima un po' no hai i fischi per dire no insomma dopo quattro giornate basta dopo dopo 30 anni anche di più 53 17 ho cominciato quanti sono anni 36 anni che posso essere sorpreso qualcosa nel calcio dopo dal 92 che sono in Italia con tutto quello che ho passato da giocatore da allenatore pensi che riesci ancora qualcosa a sorprendere era retorica domanda retorica perciò è tutto tutto normale cosa? no ma è una domanda che non mi aspettavo però se mi può sorprendere dopo uno dopo uno che sta 40 anni nel calcio se le posso sorprendere se qualcuno lo insulta sui social che io non ce l'ho o che li fischiano ci sono cose peggiori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti